4 miliardi e mezzo di anni fa fu la terra 400 milioni di anni fa i primi animali la terra era in perfetto equilibrio piante, fiori, alberi, oceani, fiumi, laghi, montagne, boschi, ghiacciai e lui è rimasta per centinaia di milioni di anni con i suoi ricambi ciclici e naturali poi, 200 mila anni fa la razza umana quella che doveva portare civiltà, progresso sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nel pianeta in cui siamo ospiti la razza superiore la più intelligente ecco dove la razza superiore la più intelligente ci ha portati grazie a tutti ma siamo davvero indispensabili per il pianeta terra? io credo proprio di no e tu? pensaci comincia ad agire da essere intelligente rispetta l'ambiente è la tua casa amala grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.